Tra poco, ramo a un mezzo Per oltre 30 anni il mondo è vissuto nel terrore di un uomo capace di mangiarsi un pepistrello vivo O zio Ora invece potrai scoprire la sua vita reale Il marito e il padre affettuoso Lo sportivo, l'amante degli animali L'uomo di spettacolo e la rock star al lavoro Gli Osborne, giovedì sera alle nove e mezza Capo, un progetto per... Un altro, di che si tratta stavolta? Cosa ne dici di raccogli e vinci? È un'idea grande così! Le conosco le vostre idee Ascolta, le confezioni verranno migliaia di euro Le confezioni, spiegatela Sì, collezionando gli incarti di Mars, Twix, Bounty e M&M's Il fortunato estratto potrà vincere fino a 100.000 euro Raccogli e vinci quanto vuoi tu Oh, finalmente una buona idea Ho un grande successo Ci sarà da sprapparsi i capelli E io sono già pronto Raccogli anche tu gli snack M&M's, Mars, Twix e Bounty M&M's, Mars, Twix e Bounty Oltrepassate i limiti del colore Nuova feria color booster del real Non si era mai visto Color booster Un concentrato di colore puro Che moltiplica il potere del colore Per potenziare l'intensità del colore Potenziare i riflessi molti sfaccettati E la luminosità Nuova feria del real con color booster Perché voi valete Scopri il piacere della pausa Suado Non per la mente Mulino bianco Mangia sano E vivi meglio Select and TV L'appuntamento quotidiano Dove può accadere di tutto La principessa Valeria È la padrona di casa Telefona per chiacchierare con lei Puoi scegliere il tuo video Fare domande agli ospiti E vincere i premi a sorpresa Rissolvi i tuoi problemi sentimentali Con l'aiuto del DJ Fuori Paolino La tua vita cambierà dal giorno alla notte Mandaci via MMS la tua pagina Potrebbe essere quella che cerchiamo Select and TV Dall'unedì al venerdì alle 5 Select is sponsored by We MMS and Video Show nuova di Zecca Quindi scopriremo insieme i 20 video Più richiesti da voi Nell'ultima settimana di Selecta Fra poco Aikichi Onizuka Adora le belle ragazze È veramente carina Un vero playboy Ha davvero un buon profumo Ha un passato da teppista Ma ora ha deciso di cambiare vita E fare il professore Professore Però finisce nella classe